Negli ultimi giorni la notizia della cessione delle bombe a grappolo da parte degli Stati Uniti all'Ucraina ha dessato molto clamore. Questo tipo di bomba è particolarmente letale in quanto a seconda del tipo può scagliare migliaia o decine di migliaia di piccole sfere metalliche creando danni non solo ai mezzi leggeri ma risultando letali anche per gli esseri umani. I paesi convolti non hanno firmato alcuna convenzione per vietarle e la stessa Russia le utilizza già dall'inizio del conflitto. Lo scopo di impiego per gli ucraini è quello di eliminare i russi che occupano le trincee in modo tale da facilitare il lavoro per la propria fanteria e quindi l'avanzata. Se volete sapere di più come al solito il link nei commenti è in descrizione.